La vasta gamma supergressa di porcellanati effetto legno cresce e si arricchisce per soddisfare nuove esigenze di arredo. Husk, il guscio della noce, antico simbolo sacro. Storicamente il noce nazionale è stato utilizzato per la costruzione degli arredi più lussuosi e nei secoli il suo impiego si è ampliato a diversi ambiti e applicazioni di pregio. Come la materia a cui si ispira, riproducendo nelle sensazioni visive e tattili, Husk è un prodotto classico ed elegante, che scalda l'ambiente. Possiede un gusto caldo senza tempo, oggi molto apprezzato nel design. I quattro colori propusti riproducono le tante tonalità presenti in natura all'interno del tronco dell'albero e le lavorazioni ne esaltano le venature e i morbidi movimenti cromatici. Grazie per la visione! I diversi formati danno personalità agli spazi dove sono posati e si adattano a esigenze e soluzioni estetiche differenti tra loro per forma architettonica o stile. Con Husk riscopriamo il calore della natura, lo trasformiamo in materia e lo portiamo in ogni contesto abitativo. I scegli e Husk ama l'aspetto e le sensazioni del legno, ma cerca nel gres porcellanato un'alternativa resistente, pratica, igienica. Musica 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 Grazie a tutti.